è rimasto con noi Giorgio Bianchi che ringraziamo e ci ha raggiunto un amico Nicolai Lilin di cui è appena uscito un libro molto interessante che è questo sull'Ucraina, la vera storia che vedete in copertina con l'immagine di Zelensky anche i colori ucraini e ricordo anche il libro di Giorgio che racconta sono due facce della stessa medaglia, eccolo qua Donbass Stories sono fotografie e racconti meravigliosi e per raccontare da un punto di vista entrambi, da punti di vista anche leggermente differenti ma su tante cose estremamente simili per raccontare un conflitto che parte da lontano e io parto da Nicolai e cito un passaggio del tuo libro pagina 108 dove dice una cosa molto, non pretendo che tu ti ricordi a memoria la cosa però te lo rileggo e tu dici la Russia putiniana con tutta la sua corruzione con tutte le sue mancanze e nefandezze non è certo peggio di quell'abisso morale disumano nel quale è precipitata l'Ucraina dopo il colpo di Stato del 2014 noi qui in Occidente giustamente ci scandalizziamo per la morte dei giornalisti in Russia, ma bisogna dire che spesso lo facciamo anche senza approfondire le cause a prescindere e prontamente dando la colpa al regime di Putin non dissento perché se in un paese muore un giornalista che cerca di portare la verità alla luce il sistema che governa questo paese in ogni caso ha delle responsabilità non capisco però perché gli stessi difensori dei diritti umani che qui in Occidente da quasi 20 anni ripetono come un mantra il nome di Anna Politoskaya giustamente lamentando la mancanza di giustizia non si esprimono ugualmente in sostegno e in memoria di tutti quei giornalisti, scrittori, scienziati, politici, attivisti e semplicemente cittadini che sono stati massacrati dal regime di Kiev solo perché si opponevano alla dittatura dei colpisti ecco queste sono frasi che nel nostro racconto della guerra non abbiamo molto sentito tu parli di un abisso in cui è sprofondata l'Ucraina dal 2014 quindi insomma dipingi come se fosse una lotta tra due democrature come dice qualcuno, tra due autocrazie, tra due cose che da certi punti di vista si assomigliano perlomeno, è così? Ma assomiglianza c'è poca soprattutto strutturale perché mentre la Russia di Putin sì è un sistema autoritario ma un sistema che rappresenta se stesso l'Ucraina è veramente una specie di profilattico politico cioè noi parliamo di un sistema che non rappresenta se stesso non rappresenta cittadini ma esiste in funzionalità di essere uno strumento geopolitico di poteri che arrivano al di fuori di questo paese per questo metterli sullo stesso piano è sbagliato da ogni punto di vista dal punto di vista culturale, dal punto di vista sociale, dal punto di vista giuridico e anche dal punto di vista di analisi geopolitica parliamo di due entità totalmente diverse Ecco, com'è stato possibile questo... tu hai usato un termine adesso molto forte dal 2014 in avanti tu stai descrivendo una nazione che è per conto terzi in qualche maniera dominata da interessi statunitensi? Noi abbiamo conflitto, sì, noi abbiamo conflitto partito dagli... io più che statunitensi utilizzo sempre i termini dell'oligarchia anglosassone dell'oligarchia occidentale perché qua in realtà stiamo parlando dei meccanismi che ormai lavorano al di fuori della rappresentanza statale governativa di uno stato concreto noi parliamo di poteri fortissimi, delle multinazionali, delle produzioni, delle armi della grande finanza speculatoria che ovviamente è figlia della cultura anglosassone che si base sull'impulso politico coloniale cioè loro sono abituati a fare politica così entrare nella casa degli altri, sfondare la porta, organizzare le guerre organizzare le rivoluzioni, capovolgere tutto noi italiani, insomma, della nostra storia basta prendere qualsiasi episodio e c'è sempre in mezzo la loro zampina basta pensare a Enrico Mattei, ad esempio è stato ammazzato da questa gente qui e sono passati gli anni, sono passate le generazioni ma l'intento, l'impulso politico di quella forza è rimasta stessa, è rimasta tale loro hanno bisogno di, nella nuova scacchiera geopolitica, nel mondo multipolare di togliere il dominio della Russia, il dominio energetico dall'Europa occidentale quindi loro hanno bisogno di sottomettere l'Europa occidentale alla propria egimonia quindi soprattutto a livello industriale e quindi organizzano una guerra in Ucraina e l'Ucraina si presta l'Ucraina si presta perché? perché l'identità politica ucraina è sempre stata legata ad un'immagine di appendici a qualcosa l'Ucraina era sempre l'appendice di un potere la tragedia enorme di Ucraina, la tragedia del popolo ucraino e che non hanno cultura di una vera indipendenza non sono mai stati indipendenti loro sono nati come una regione della Russia loro hanno continuato la loro vita come gli elementi inventati da vari poteri per sfruttare contro l'impero russo la loro indipendenza vera è la nascita proprio del concetto geopolitico dell'Ucraina è legata al comunismo i tre più grandi creatori dell'Ucraina sono Lenin, Stalin e Kaganovich senza questi tre comunisti uno dei quali era ebreo e l'altro ebreo a metà e tra l'altro adesso anche fa ridere perché l'Ucraina di oggi detesta i comunisti e detesta i ebrei cioè i nazionalisti ucraini odiano gli ebrei in realtà devono insomma devono ringraziarli perché sono stati gli ebrei a dare a loro l'impronta geopolitica comunque questa impronta in geopolitica è stata creata in funzione dell'Unione Sovietica anche lì non hanno avuto un volo libero ma esiste secondo te una cultura autonoma al di là dell'indipendenza statuale ma esiste una cultura autonoma ucraina diversa da quella russa? Oddio la cultura ucraina certo che c'è è sbagliato di dire che non esiste però parliamo di una cultura regionale di una cultura campanilistica e come esiste una cultura calabra all'interno del concetto Italia o la cultura romana però comunque non è nella Nuova Zelanda per dire vicino alla Russia perché comunque l'Ucraina a livello storico è la madre della Russia cioè la Russia è nata da lì Kiev, la Rus di Kiev è la prima entità della Russia per cui oggi anche a livello storiografico i storici seri che studiano questa cosa non approfondiscono certi argomenti di propaganda perché è troppo basso a livello professionale e anche discutere certi argomenti proposti oggi da vari sostenitori di questa identità diversa dell'Ucraina diversa dalla Russia come ha detto recentemente il presidente Putin che va criticato per molte cose ma qui aveva ragione si tratta dello stesso popolo quindi è una cosa che diceva anche Solzhenitsyn per andare ma tantissimi intellettuali tantissimi intellettuali il concetto ucraino il concetto ucraino è stato applicato anche a livello linguistico entrato nell'uso con l'arrivo dei comunisti prima gli ucraini non si definivano ucraini si definivano malorossi si definivano in altri modi galiziano si definivano in altri modi ma non ucraino il concetto ucraino è stato applicato dai comunisti è diffuso tu dici è uno stato profilattico di altri Zelensky però almeno ci viene raccontato così come quello che ha un enorme sostegno popolare è quello che parla a nome della nazione sappiamo che prima il suo gradimento prima della guerra il suo gradimento era un bel po' in calo e secondo te quanto effettivamente rappresenta il popolo ucraino quanto eventualmente gli ha giovato il fatto di essere il presidente della guerra ma noi occidentali abbiamo un grande difetto nel dare i giudizi alla politica di altri paesi noi cerchiamo di dipingere tutto così come ci è comodo quando noi parliamo dei consensi di Zelensky la prima cosa che noi dobbiamo applicare alla nostra analisi e così farebbe qualsiasi scienziato qualsiasi analista geopolitico è che Zelensky è arrivato a governare un paese che si trova dal 2014 nello stato di guerra civile dove il governo centrale massacra ripetutamente ogni giorno delle regioni dei cittadini che hanno stessi passaporti stessi diritti del paese di cui fanno parte quindi quando noi parliamo dei consensi dei numeri prima cosa che va detto che va detta e va appurata è che noi parliamo di un paese del 2014 in fase della guerra civile quindi a mio avviso giusto criticare ad esempio i referendum che svolgono i russi perché no? Critichiamoli qualsiasi cosa va criticata però criticando i referendum per l'indipendenza della Crimea ma come possiamo accettare qualsiasi attività politica di un paese l'esercito del quale massacra i propri cittadini ma stiamo scherzando io per me la legalità di personaggio come Zelensky che poi di sua impronta politica si può parlare veramente a lungo perché è un nonsense insomma proprio rappresenta un nonsense un fallimento totale umano morale professionale proprio un fallimento di tutto cioè rappresenta questo questo essere umano perché dici spiegami ma è chiaro cioè noi qualche giorno fa per non adentrare nelle cose difficili e complicate noi qualche giorno fa abbiamo rischiato veramente una guerra nucleare abbiamo sfiorato un conflitto nucleare che ha riuscito a evitare un contadino polacco con suo telefonino che ha fatto che ha fotografato i resti del missile ucraino le ha mandati online le ha fatti diventare virali e le persone come me che hanno esperienze che riescono a distinguere un missile 5V55K di medio raggio anti aereo da un missile balistico intercontinentale o missile balistico ipersonico kinjal sono riusciti a distinguere queste cose e in tempo veloce hanno scritto guardate che questo non è un missile russo questo è un missile ucraino 100% perché può essere lanciato solo da un raggio 60 km e quando tutto il mondo persino l'amministrazione di Biden e Biden stesso ha detto ragazzi fermiamoci qua stiamo parlando di una guerra nucleare che sta per scoppiare per un missile ucraino che è caduto per sbaglio o per qualche altro motivo possiamo discutere sul territorio polacco ma è sicuro che il missile ucraino personaggio di cui noi stiamo parlando ovvero Vladimir Zelensky ha continuato per altre dieci ore a sostenere che questo missile fosse russo Ti chiedo una cosa poi voglio sentire cosa dice Giorgio perché Giorgio in quella terra che tu hai raccontato e questo libro bellissimo nella testimonianza c'è stato dentro quella che tu hai chiamato guerra civile ha conosciuto le persone ha visto i luoghi ha visto la nascita a Maidan che tu racconti anche nel tuo libro quanto secondo te Zelensky è autonomo i nostri giornali hanno raccontato a un certo punto e i giornali americani una specie di differenza di vedute c'è come se a un certo punto Zelensky per i fatti suoi avesse un po' esagerato tira ci sono dei falchi in Ucraina che spingono per continuare la guerra invece gli americani sono un po' così dubitano non hanno tanta voglia di andare c'è un po' questo racconto in un momento prima tutti compatti adesso sembra che ci sia questa divergenza io però fatico a credere a uno Zelensky che va per i fatti suoi posto che la storia ci ha raccontato di creazioni americane o internazionali di cui poi si perde il controllo però fatico a pensare a liti di questo tipo ma io credo che non si tratta dei dei liti si tratta semplicemente dei cambi di rotta che alcuni comprendono gli altri no perché quando eh il padrone che ha i soldi in tasca e che riesce a fare i calcoli e che vede cosa succede sul piano eh di eh sul piano operativo di una guerra eh e comprende che non riesce più a fornire la stessa quantità di ehm ehm colpi per l'artilleria che servono per l'Ucraina per l'esercito ucraino quindi noi siamo di fronte a una palese situazione dove mancano i colpi l'occidente non è in grado di produrre tanti colpi quanto l'esercito ucraino li usa li mette in uso i russi sfruttano i loro colpi vecchi hanno i mortai di anni 80 io oggi ho pubblicato un video questi tirano con i mortai hanno tantissimi eh colpi da 83 mm eh da 82 mm scusate e sono eh gli armi prodotti ancora dall'Unione Sovietica Ucraina non ci hanno più perché le hanno vendute in Africa nel frattempo perché hanno fatto ruberie di quello che era il patrimonio sovietico e oggi sono a vuoto e l'occidente che è padrone capisce che non può mantenere più questo tipo di narrazione quindi bisogna cambiarla lentamente e loro hanno danno messaggi danno messaggi ma Zelensky è come ehm come un elemento che è stato prima caricato di una certa tipo di certo tipo di narrazione adesso bisogna piano piano rallentare fermarlo guarda io mentre andavo qua ho scritto su mio canale telegram una notizia importantissima importantissima che va approfondita il ministro della difesa di Lituania il paese che ancora tre quattro mesi fa si strappava addosso i capelli diceva ma noi all'Ucraina diamo tutto noi li aiutiamo in tutto noi gli daremo tutti i nostri obici tutti i nostri tutto quello che abbiamo aerei, missili devono combattere i russi adesso il ministro ha detto noi gli dovevamo dare 20 obici tedeschi la B si tratta dei B2000 sono obici semoventi importanti ma non li daremo più abbiamo cambiato idea c'è una narrazione che cambia a seconda della bisogna però nel frattempo Giorgio ci sono le persone lì che continuano a morire sì sì questo accade da otto anni a questa parte continua anche oggi noi quello che dimentichiamo è che molti pensano che le questioni dei territori autonomisti si siano risolti il 24 febbraio con l'ingresso diciamo diretto della federazione russa con quella che loro chiamano operazione militare speciale ma lì di fatto la gente continua a morire continua a morire i territori continuano a essere bombardati io ero lì e adesso non ricordo esattamente la data doveva essere il 13 marzo no? quando ci fu un Tochka Wu che atterrò dietro casa mia praticamente causando più di 20 morti che tra l'altro il giornale La Stampa attribuì ai russi con quella prima pagina vergognosa con scritto la carnificina c'era la foto della strage a Donetsk con tutto intorno articoli che riguardavano i bombardamenti russi così il lettore era indotto a credere che quel massacro dove c'erano pezzi di persone dappertutto fosse stato causato dai russi la storia dei missili è andata uguale nel senso che si è detto quando è diventato la prima volta ma lì c'è stato il giornalista adesso sono ricordo male dell'associated press che è quello che per primo ha dato la notizia dicendo attacco russo in Polonia la notizia di una gravità immane oggi è stato licenziato eh sì quello stavo dicendo questo è stato licenziato in tronco per aver dato una notizia in maniera sconsiderata perché questo è l'unico termine che vi viene in mente una notizia sconsiderata non verificata non verificabile che può causare un disastro a livello planetario e poi noi abbiamo due importanti esponenti politici italiani non ce lo scordiamo Calenda e Letta che hanno fatto delle dichiarazioni irresponsabili di fuoco gravissime sulla base di notizie inconsistenti cioè noi ci muoviamo più o meno cioè noi stiamo danzando sull'orlo di un vulcano che sta per esplodere con persone che sembra che facciano il tifo la terza guerra mondiale cioè io ho un bambino di tre anni e mezzo ma io posso pensare che il destino mio figlio è in mano a questi aspiranti dottor stranamore no? che manipolano la realtà con la complicità dei giornali perché poi ricordiamoci che è stato un tantame perché poi questo qui no? oggi la piramide dell'informazione è questa che un giornale statunitense dà una notizia basandosi su vague fonti di intelligence quindi io posso pensare che l'intelligence dà al suo giornalista di fiducia una notizia quello la pubblica tutti gli altri giornali dice che facciamo la diamo o non la diamo? certo se l'hanno dato loro la diamo? quindi si crea questo telefono senza fili per cui a livello planetario perché noi parliamo spesso di globalizzazione dei mercati quello che non viene citato è la globalizzazione del mondo dell'informazione cioè oggi quando tu sfogli la repubblica quando tu sfogli il Corriere della Sera è quello che ti fa impressione è vedere non solo le stesse notizie ma anche come è impaginato il giornale che è impaginato allo stesso identico modo però rispetto a queste cose qui in realtà negli Stati Uniti qualcosa di differente ogni tanto esce perché il New York Times ha raccontato i dissidi poi anche lì vai a capire se sono fonti come dire è una messa in scena se è un racconto che viene fatto apposta il Washington Post ha pubblicato una notizia a cui più volte ha fatto riferimento il professor Rossini un retroscena dicendo in realtà è tutta una finta no? non è vero che vogliono finire la guerra Biden ha detto a Zelensky facciamo un po' finta poi diamo la colpa ai russi tu che scenario vedi Nicolai? cioè quello che vabbè questa guerra può continuare all'infinito può diventare una nuova Siria e quello che resta dopo è comunque un paese una nazione smembrata distrutta oggi tu parlavi della difficoltà a trovare i colpi però ci sono infrastrutture civili che sono state colpite io non so dove arrivi l'acqua cosa si riesca a comprare 5 milioni di profughi e 7 milioni di sfollati interni 12 milioni di persone che di fatto non hanno più una casa numeri terrificanti ma guarda innanzitutto se noi parliamo dell'Ucraina noi dobbiamo ammettere ripeterlo all'infinito che l'Ucraina è uno stato fallito in tutti i sensi fallito a livello geopolitico non ha più i propri confini cioè noi non parliamo più di Ucraina con i confini del 91 no noi dobbiamo rivederlo e piace questa cosa a Zelensky non piace sarà costretto di farlo quali saranno i nuovi confini? a lei dipende le dipende anche dai polacchi sai che i polacchi vogliono la Galizia e i romeni vogliono la bucovina quindi è molto probabile che Ucraina non perderà solo all'est solo quello che prendono i russi è molto probabile che più va avanti questa guerra più si impoverisce la popolazione più si verifica il disastro la catastrofe umanitaria i stati come Polonia Polonia dirà ma guardate noi abbiamo tanti polacchi che vivono nella zona di Galicina non vogliamo vederle soffrire entriamo lì tiriamo una frontiera i polacchi hanno preso tanti tanti ucraini in questi mesi c'è anche tu dici c'è anche una solidarietà un supporto interessato dei vicini ma sicuramente ma polacchi l'hanno dichiarato l'hanno dichiarato se tu leggi le dichiarazioni dei alti alti locati militari polacchi loro non lo nascondono loro vogliono la Galicina ma polacchi sognano un loro impero noi siamo nel mondo dove si stanno si stanno riposizionando gli asset del potere prima era un mondo bipolare adesso un mondo multipolare piace o no e così e in questo mondo multipolare noi dobbiamo ancora mettere sulla scacchiera i poteri i potenti le piedine quindi tutto si sta assemblando quindi questa guerra andrà avanti finché questa nuova ordine mondiale si composto da poi in questo Duginiano Dugin è stato un'altra perché lui è uno teorico di questo ordine multipolare è uno che ha subito una perdita non indifferente e anche questa cosa è passata del tutto in cavalleria cioè è normale quello è cattivo sa io su Dugin ho molte critiche perché comunque l'ho seguito molto da russo ho letto le sue cose un filosofo comunque importante considerato importante un filosofo che è molto vicino a un'idea di certo estremismo russo io non condivido molte delle sue idee l'idea di Eurasia non ha inventato lui e anche il mondo multipolare non ha inventato da lui è una realtà che esiste che lui giustamente utilizza essendo un filosofo importante molto bravo a prescindere dalle sue dalle sue visioni politiche è un grande professionista fa piacere leggere i suoi libri e poi con lui molte cose ad esempio io personalmente non condivido ovviamente quello che è successo con la sua figlia Daria come dire è un terrorismo culturale è un modo di dimostrare a una parte della società russa che il loro modo di pensare il loro modo di fare è sbagliato quindi l'Occidente li ha condannati è così però anche lì c'è sempre questa disparità non lì è passata appunto mi dicevo come se in fondo fosse vabbè arrangiati no hai teorizzato appunto la grande Russia questi sono i risultati affari tuoi è comunque che ci piaccia o non ci piaccia la figlia di un intellettuale che non è che andava a bordo di un giornalista esatto lei era giornalista e succede vediamo abbiamo visto nei giorni scorsi immagini terribili di soldati russi vittime di un'esecuzione con un colpo alla nuca messi lì la stampa in questo caso li ha messi in prima li ha messi in prima pagina però insomma anche quello è un'altra cosa voglio sentire cosa ne pensate c'è di questa disparità perché quella lì tranquillamente è la nostra scientificazione noi viviamo nel mondo di propaganda noi viviamo in un mondo di propaganda dove il nostro mainstream si base su una serie di realtà e le rappresenta in un certo modo tra l'altro propaganda russa e propaganda occidentale si distinguono proprio perché i russi facendo propaganda la fanno più di qualità perché la propaganda russa ha più fonti realistici mentre qua noi abbiamo le immagini di videogiochi che vengono passati in diretta tv oppure grandi giornalisti grande penne del giornalismo italiano seguiti da tanti come ad esempio a me è successo all'inizio della guerra il famoso caro armato russo che schiaccia la macchina ucraina cioè io ho visto le immagini io sono un ex militare scusate sono sergente maggiore in congelo delle forze speciali russe permettetemi di avere dubbi e diffondere la realtà quando io vedo che non si tratta di un caro armato cioè si tratta non di un caro armato non russo e non ha fatto questa cosa volontariamente ma questa cosa è stata girata da tutti i giornalisti l'hanno girato tutti persino Roberto Saviano cioè io a lui ho scritto personalmente gli ho detto guarda Roberto questa è una fake news te lo assicuro proprio con tutta la mia professionalità perché non si tratta di un caro armato si tratta di un blindato leggero in base a MTLB sul quale è posizionato un sistema mobile di contraeree non è russo è ucraino 100% perché i russi non ce l'hanno più in dotazione e non li usano e non ha schiacciato la macchina volontariamente poveretto ucraino non aveva i track ci sono i track d'asfalto che si mettono sui cingoli lui non aveva i track d'asfalto quelli che permettono ai cingolati andare sull'asfalto superi 50 km orari slitti è come andare sul ghiaccio questo poveretto ha raggiunto la velocità massima ha slittato e ha investito questa macchina per errore povero ucraino mi dispiace per lui qua è stata trasformata in una fake news vera e propria no Saviano non mi ha risposto neanche e il video ha continuato a essere presente sui suoi canali e io allora ho pubblicato pubblicamente ho diffuso un video di smentita perché secondo te poi voglio sentire Giorgio su questo c'è anche tu hai fatto il militare ci hai appena raccontato hai raccontato anche nei tuoi romanzi insomma la crescita difficoltosa che hai avuto a che fare con la violenza l'hai vista hai vissuto la guerra secondo te a parte le posizioni di convenienza c'è anche qualche rimosso che torna fuori c'è il fatto che qui si sentono forti a voler dire facciamo la guerra tanto la combattono gli altri tu hai parlato in un videogioco sembra che parlino in questa maniera come gente che sta giocando a un videogame questa è la tragedia dei nostri tempi la distanza dalla realtà io prima guerra ho visto a 12 anni quello che prima Giorgio ha parlato e io seguo Giorgio il suo lavoro di quello che lui fa lui sta facendo una cosa importantissima noi in occidente ci riempiamo la bocca dei concetti che non conosciamo cioè noi parliamo della guerra e noi non sappiamo che cos'è io a 12 anni ho sparato un uomo quando difendevo la mia città insieme con mio papà la casa del mio vicino è stata rasa al suolo con i razzi reattivi a lasagne non è rimasto niente dopo un mese hanno trovato un osso del bacino e non hanno capito a chi appartiene io queste cose le ho vissute a 12 anni poi ho fatto militare per disgrazia sono finito nell'esercito sono stato nella seconda campagna cicena io la guerra la porto dentro so che cos'è mi ha formato e per questo io sono più pacifista di tutti quando io parlo di pace io non parlo perché mi piace stare nei salotti dei radical chic perché io so come si soffre so come si muore l'ho visto so qual è l'odore a il sangue come si raccolgono dalla terra i cadaveri a pezzi e io questa cosa non lo voglio assolutamente augurare a nessuno ma soprattutto alle mie figlie io oggi sono papà ho due figli una a 16 anni altra a 9 io non voglio che loro vivano in un mondo fatto da queste persone che giocano con i concetti dei quali non sanno niente Giorgio lo diceva prima tutti e due casualmente avete parlato giustamente anche dei vostri figli quello che dice Nicolai è sacrosanto cioè noi poco fa abbiamo parlato di pandemia noi abbiamo avuto un incidente allargato che è andato in tilt completamente cioè bambini chiusi dentro casa io ho visto bambini giocare per strada mentre poi avevano le bombe cioè uno dei miei reportage da Mariupol c'è un cortile interno dove i bambini che giocano a pallone intorno c'è l'apocalisse ma non l'apocalisse in post produzione l'apocalisse vera i bambini giocavano le persone stavano in strada cioè hanno un'altra percezione qui si parla di guerra con una facilità estrema cioè noi non capiamo che il benessere da noi è un qualcosa di consolidato e dato cioè non è una conquista quotidiana perché quando tu pensi alla Siria la Siria era la perla del Medio Oriente quando tu pensi alla Libia la Libia era la Svizzera d'Africa quando pensi all'Ucraina era un paese povero dove la gente viva decentemente quando pensi a questi paesi erano posti che la Serbia sono posti dove la gente viva decentemente non è che viveva male paesi più poveri ma lo standard di vita era accettabile vai in Libia oggi vai in Siria oggi vai in Ucraina oggi e questo noi siamo responsabili noi abbiamo un letto e un calenda che si danno si lanciano in dichiarazioni farneticanti non rendendosi conto delle conseguenze parliamo dei giornalisti del doppio standard Daria Dughina uccisa io ci avevo parlato a marzo con lei a me questa cosa mi ha sconvolto ma Alberto Fazzolo che è finito nelle liste di proscrizione del Corriere della Sera insieme a me lui è stato criticato perché avrebbe sparso una fake news parlando di 80 giornalisti assassinati in Ucraina hanno detto sono solo 40 sono solo 40 noi abbiamo Assange che sta marcendo in un carcere di massima sicurezza a Belmarsh torturato secondo le dichiarazioni di Nils Melser delegato dell'ONU specializzato nella tortura e nessuno dice niente poi parla giustamente di Anna Politkov si parla Khashoggi fatto a pezzi dentro l'ambasciata saudita con la motosega cioè quello che è insopportabile oramai è gente che pretende di avere un'opinione su cose che non capisce io fino all'altro ieri andavo nelle scuole a raccontare quello che succedeva a gente che non sapeva neanche dove fosse l'Ucraina sulla mappa oggi sono tutti esperti oggi sono loro che pretendono di raccontare a me che ci lavoro da 8 anni e là dentro come funziona gente che non sa di 8 anni di bombardamenti gente che non sa del colpo di stato gente che non sa di Poroshenko che dicherò i vostri figli vivranno nelle cantine e l'hanno fatto li hanno fatti vivere nelle cantine sotto bombardamenti cioè gente massacrata dalla propria gente noi non riusciamo a cogliere il fatto che anche impercettibilmente il nostro benessere un pochino alla volta viene fatto calare qui in Italia impoverendo le nazioni perché qualcuno ha deciso come dobbiamo spendere i nostri soldi come dobbiamo metterli figuriamoci se riusciamo a concepire una realtà di questo genere cioè non ci rendiamo poi in realtà lo soffriamo accusiamo tantissimo appena perdiamo un pezzettino di benessere di sicurezza andiamo nel panico come diceva Nicolai poi però pensiamo sempre non può mai accadere e invece accade no? e guarda che è successo con la pandemia esatto abbiamo mandato a quel paese lo standard di benessere diritti consolidati abbiamo parlato prima di medici ghettizzati di insegnanti gente che ha paura di esprimere la propria opinione e io invece ho qui due persone che la loro opinione non hanno paura di esprimerla di scriverla di metterla nero su bianco sulla carta vi ricordo i loro libri faccio vedere prima questo che mi richiede più sforzo per sollevarlo che quello di di Giorgio è quello qui Donbass Stories e invece quello di Nicolai Lillin Ucraina la vera storia Ucraina o Ucraina? perché non si o la donna Ucraina no no Ucraina è una pronuncia nostra occidentale ah va bene abbiamo fatto ecco anche lezioni di italiano con Nicolai Lillin grazie perché Ucraina proviene U-cra-ia alla confine al confine quindi Ucraina il confine che purtroppo diciamo nel nome c'è la sorte e la condanna di questa nazione è il confine fra varie altre spartita fra vari popoli grazie Nicolai Lillin grazie Giorgio Bianchi voi tenete come fanno loro la mente libera e gli occhi aperti noi ci vediamo alla prossima settimana